ciao a tutti oggi prepareremo insieme i biscotti tarallucci allora per prima cosa pesiamo lo zucchero nel boccale azionare 10 secondi a velocità 10 unite 200 grammi di farina 50 grammi di fecola lievito miele l'uovo pizzico di sale e burro prima avevo sbagliato questi sono i secondi ragazzi 25 secondi velocità 5 io l'ho tenuta qualche secondino in più anche perché la macchina è nuova e mi sto cominciando ad adattare adesso le ricette questo è il risultato adesso la compattiamo con le mani la frolla è perfetta adesso la stendiamo con l'aiuto di un mattarello così prendiamo un tagliapasta e creiamo dei dischetti prendiamo un timbrino infarinato e fate una lieve pressione come potete vedere questo è il biscotto spennellate la superficie con l'uovo sbattuto così tutti biscotti naturalmente inforniamo a 180 gradi forno caldo statico per 15 minuti circa ecco lì pronti sono buonissimi friabili spero che questa video ricetta vi sia piaciuta io vi lascio alla prossima